È successo veramente, abbiamo schiantato il Milan, l'Inter è prima in campionato, siamo a più 4, la partita è stata quella dei nostri sogni, quella dei vostri sogni, perché avete messo tutti i pronostici vincenti, a parte due o tre, veramente positivi come vi avevo chiesto prima all'inizio della partita, in questo momento soprattutto il tifo ci crede e la squadra lo sente e si vede. L'Inter vince il derby, l'Inter stravince il derby, ho un sacco di cose da dirvi, commentate qua sotto, fatemi vedere quanto siete felici, scrivetemelo, però prima di scrivermelo guardate il video, buona visione. Ragazzi non so neanche da dove cominciare perché sto facendo il video subito dopo la fine della partita, non ho neanche visto la conferenza di Conte, non ho visto niente, lo guarderò con calma, non mi interessa, ma volevo condividere questa gioia con voi perché ve lo meritate, veramente ve lo meritate per come siete stati vicini a me, a questo canale. Ieri abbiamo toccato quota 10.000 iscritti, il canale vi ricordo che è nato a gennaio 2020, quindi un anno e un mese, quindi vi devo ringraziare tantissimo perché vivere l'Inter insieme a voi è molto, molto, molto più bello e queste gioie voglio condividere prima di tutto con voi che per me avete la priorità su tutto quanto. Quindi intanto vi ringrazio perché mi avete scritto un sacco di pronostici e per andarli a beccare tutti ci ho messo 20 minuti, praticamente ho chiuso la partita, ho cominciato a scorrere i pronostici dal computer per leggere tutti, erano tantissimi. Ci avete azzeccato anche un sacco di persone e non mi aspettavo, non è mai successo così tanti risultati positivi, vuol dire che avete imparato a leggere la partita. Quindi parto subito facendovi vedere chi ha vinto, chi ha azzeccato il gioco pronostico e c'è una clamorosa sorpresa. Adesso vi faccio vedere qual è. Eccoli qua, vi sto facendo vedere qua a lato. Il primo è Lord Duke, 3-0 per l'Inter, primo marcatore Lautaro, grande Divix, 10.000 iscritti, grazie Lord Duke. Tra l'altro Lord Duke è stato quello a cui avevo scritto il mio pronostico perché il mio pronostico è stato 3-1, primo marcatore Lautaro. Lo vedete scritto qua sotto, 18 ore fa, l'avevo scritto ieri. Il secondo, incredibile, Luigi, ci devi dare le quote però perché qua siamo 10.000 e c'è gente che ha bisogno di soldi. Ci ha azzeccato di nuovo Luigi Fantauzzo o Fantauzzo, mi dovrai dire anche come ti chiami visto che è già la seconda volta che ci azzecchi, se non sbaglio, di fila addirittura. 0-3, primo marcatore Lautaro Amala. Poi c'è Josue Micheli, 0-3 Lautaro, grande Josue anche lui. Matteo Sportelli, 0-3, primo marcatore Lautaro. Valerio Valerio, Valerio va bene così, 0-3, primo marcatore Martinez, non è importante il secondo e il terzo, comunque ha beccato anche Lukaku. Paolus, 0-3 Lautaro, anche lui. E poi l'ultimo è Ale, 0-3 Lautaro. Bravissimi tutti ragazzi, ma siete stati in tantissimi a beccare il risultato di 0-3. Molti avevano scritto Lukaku e invece questi ragazzi qua ci hanno azzeccato, hanno scritto Lautaro. Partiamo con l'analisi della partita e sapete da cosa parto? Dalla faccia di Conte, l'abbiamo criticato, l'abbiamo insultato, gli abbiamo dato del gobbo, gli abbiamo dato dell'incapace, ma voi avete visto la faccia di Conte oggi? Si sarebbe mangiato l'erba, si sarebbe mangiato l'erba. Questo è quello che io volevo vedere. La rabbia, la rabbia agonistica, la voglia di vincere la partita, a prescindere dal fatto che era una partita decisiva, ci avrebbe dato un grandissimo vantaggio sul Milan. La voglia di vincere, questo è quello che devono avere i giocatori in campo e soprattutto è quello che ho visto anche nel primo tempo quando i ragazzi sembravano nervosi, ma non era il nervosismo di mandarsi a quel paese. No, non era quel tipo di nervosismo, era il classico nervosismo dal voler segnare e voler vincere la partita. Questa cosa proprio si percepiva. Barella, Lautaro, un paio di volte, vieni mi incontro, ma avevano proprio la rabbia, la voglia, la voglia di vincerla questa gara. Così li volevo vedere giocare. Perché poi la partita la puoi anche pareggiare, la puoi anche perdere, perché il Milan all'inizio del secondo tempo segna con Ibrahimovic, la partita cambia completamente. E devo innanzitutto spendere due parole per Saminandanovic, perché tutto l'anno è stato criticato, ancora una volta ci toglie le castagne dal fuoco. E ragazzi, lo ripeto, lo ripeto per anesia a volta, è vero, non è forse il portiere di 4-5 anni fa Saminandanovic, ma in Serie A attualmente, tolto Donnarumma, tolto Szczesny, che sono comunque giovani, forti, non ci sono portieri affidabili come Andanovic. Lasciate stare Musso, Cragno, lasciate stare. È un'altra roba, è un'altra roba. Farà qualche errorino Andanovic, mandatevi vedere gli errori che fanno gli altri portieri di Serie A e capite che è ancora di diritto il portiere numero uno dell'Inter. E lo sta dimostrando, e quindi questa sera, oggi, ci togliamo il cappello e gli diciamo grazie Samir per averci tenuto a gara e grazie soprattutto ai nostri due attaccanti, perché l'Inter ha due attaccanti che sono due mostri. Lautaro sta esplodendo, sta veramente esplodendo. In questo 2021 è cambiato da così a così. È un ragazzo che, oltre ai gol, mette anche la prestazione. Si è portato a spasso Kier, che da tutti era considerato il miglior difensore del campionato italiano. Io continuavo ad avere di grossi dubbi su questa cosa. Oggi, dopo la partita di oggi, un po' di confermele anch'io che non sia così. Ragazzi, se l'hai portato a spasso per tutta, tutta la partita, ha fatto una partita mostruosa. Lautaro ha fatto una partita mostruosa. E se è questo tipo di giocatore, allora sì che valgono i suoi 110 milioni di clausa recissoria. Allora sì che li vale tutti quanti, tutti quanti. Se poi a fianco a lui gioca un treno, un carro armato, che si chiama Romelu Lukaku, è normale che poi l'Inter riesca a portarsi a casa queste vittorie e queste grandi partite. Ora è tutto nelle nostre mani. Ero parlando di Romelu Lukaku, che ha fatto la sua solita partita di sacrificio. Voglio farvi sentire una cosa, perché mi hanno detto tutti, mettete nel video, mettete nel video, mettete nei miei amici. Ho l'audio ufficiale della mia esultanza al gol di Romelu Lukaku. Ve lo faccio sentire, perché voi mi vedete sempre così tranquillo, sereno, bello. Però vi devo far sentire quest'audio, perché voglio condividere con voi l'emozione del gol di Romelu Lukaku. Il terzo gol dell'Inter. Arturo, a questo sono io, eh. Lukaku! Ma che giocatore è? Ma che giocatore è? Ma che giocatore è? Ma che giocatore è? Ma che giocatore è Lukaku, ragazzi? Ma che giocatore è? È veramente un treno, un giocatore clamoroso, l'Inter vince una grandissima partita, tra l'altro hanno giocato tutti benissimo. E devo dire una cosa, ancora una volta, Stefan De Vrij fa una partita mostruosa su Ibrahimović, che poi nel secondo tempo si sposta di marcatura, non si fa più marcare da De Vrij, e va prima su Bastoni e poi su Skriniar. E le palle di testa che ha preso sono proprio quando si è spostato. Infatti se vuoi trovare un giocatore che forse un minimo ha sofferto oggi è stato proprio Bastoni. Secondo me ha sofferto molto la fisicità di Ibra, lui è ancora giovane. E da questo punto di vista deve ancora un po' crescere, ma diventerà un fenomeno anche lui. Però De Vrij ha fatto una partita perfetta, clamorosa, veramente clamorosa. Lui solitamente soffre molto Ibrahimović e soffre molti di giocatori così fisici. Quest'anno gli ho visto fare questo tipo di partita sia su Dzeko contro la Roma, sia su Ibrahimović. E quindi devo fargli complimenti a un giocatore che molto spesso è sottovalutato, si parla sempre di Bastoni, si parla sempre di Skriniar. De Vrij è sempre lì silenzioso, ma è sempre straordinario nella sua pacatezza, ma nella sua anche grandissima eleganza. A centrocampo l'Inter cambia, gioca con Eriksen, gioca con Eriksen titolare. Finalmente Eriksen è dentro questa squadra e adesso Vidal gli dovrà togliere il posto a questo giocatore. Non sono così convinto che sia così scontato che Vidal torna in titolare. L'Inter con Eriksen gioca diversamente, ovvio che fa più fattica a recuperare palla. Con Vidal e Barella l'Inter può giocare un pelo più alta e può aggredire più alti gli avversari. Però quando l'Inter ha la palla con Eriksen gioca molto, 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 molto più velocemente. E devo dire che, meno male che Conte l'ha capito e meno male che Conte l'ha inserito in questa squadra, perché se avessimo avuto Eriksen titolare anche nella prima parte dell'anno, mi vengono in mente le due partite con lo Shakhtar Donetsk, secondo me l'Inter avrebbe vinto molto più facilmente. E quindi sono contentissimo che Eriksen si stia inserendo, stia cominciando anche a parlare italiano finalmente, che secondo me è fondamentale. L'ho visto uscire col sorriso, ho visto uscire tutti col sorriso. E questo centrocampo con Barella, Eriksen e Brozvic. Signori, questo è un grandissimo, un grandissimo, un grandissimo centrocampo. Per ultimo, ma l'ho lasciato per ultimo per un caso, devo fare un commento su Ivan Perzvic, sulla partita che ha fatto Ivan Perzvic. Ecco, secondo me questo tipo di partite le fai soltanto se sei un giocatore che sente la gara e senti l'interismo. Ecco, lui è un ragazzo che è con noi da, credo, 6-7 anni, 6 anni, non mi ricordo quanti sono, togliendo l'anno scorso che è stato al Bayern Monaco, ma sapeva cosa voleva dire questo derby. E credo che sia uno di quelli che ci tiene di più a vincere con l'Inter. Lui, Brozvic, Andanovic sono un po' la vecchia guardia, sono quelli che ci tengono di più a prendersi una grandissima rivincita quest'anno. E oggi si è visto, ragazzi. È sembrato il Perzvic due o tre anni fa, quello che in fascia riusciva anche a saltare l'uomo, a essere pericoloso. Grandissima gara, grandissima gara di Ivan Perzvic. Io non lo supporto, l'ho sempre detto, è un giocatore che non mi è mai piaciuto, ma quando un giocatore fa questo tipo di partite bisogna soltanto togliersi il cappello e fargli complimenti. L'Inter è prima, quattro punti al Milan. Oggi ho parlato con un mio amico prima della partita e mi ha detto se vinciamo dobbiamo guardarci dalla Juventus e non dal Milan. Voglio fare anche lo sportivo e voglio dire che il Milan ha fatto un grande campionato per la rosa che ha, perché il Milan ha fatto molto più di quello che ci si aspettava e molto più di quello che era nelle loro corde. Non è finito, perché siamo ancora a metà, mancano ancora tantissime partite e quindi bisogna stare concentrati. Quattro punti secondo me sono fondamentali e soprattutto psicologicamente per loro sicuramente è una botta. Adesso bisogna approfittarne e non bisogna fare cavolate. Cioè non bisogna perdere punti con le piccole e bisogna cominciare a macinare, perché le altre che inseguono devono essere mentalmente stressate. Come quando c'era la Juve davanti, il Napoli che la inseguiva, che la Juve non perdeva un punto. Ecco così deve essere l'andamento dell'Inter. Andare avanti, marciare e vincere partita dopo partita. Chiudo il video dicendovi che sto preparando una novità, una grossa novità, e lo sto facendo però perché ho visto che comunque sia state rispondendo bene, ci sono tantissimi iscritti, tantissimi commenti e mi piace molto questa cosa. Vado fiero di questo canale perché non vedo insulti, non vedo gente che si arrabbia, vedo sempre commenti positivi, commenti di calcio. Quindi sto preparando un progetto parallelo che vi spiegherò prossimamente, ma che nascerà sicuramente in questo mese. Non voglio spoilerare nulla, ma vi dico soltanto di stare connessi perché usciremo fuori dagli schemi e sto preparando qualcosa di veramente, veramente, veramente carino. Ragazzi, se non siete iscritti al mio canale e vi piace il calcio, e vi piace soprattutto l'Inter, se vi piace l'Inter, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!